Musica Questa musica è travolgente vogliamo iniziare così questa nuova puntata di Su il Sipario dietro si stanno scaldando tra pochissimo su questo palco per questa puntata bellissima con un altro musical interamente prodotto in Italia dalla compagnia B sono dietro, io non so se voi mi sentite spero di sì, spero che arrivi la mia voce ma che arrivino anche le prove vi devo dare delle anticipazioni abbiamo detto compagnia B, sono dei ragazzi bravissimi che girano tutto il mondo con delle produzioni incredibili questa volta con una produzione nuova originale mai vista è una favola liberamente tratta scritta dai fratelli Grimm ed è particolare il principe Ranocchio è una storia insomma che ci farà sognare bella, divertente ma anche con una morale si avrà un risulto che ci farà riflettere che è quello della diversità è una tematica che mai come in questo momento è attualissima quindi io vi devo solamente dire buon divertimento con il principe Ranocchio io vado a ballare con loro perché noi ci prepariamo per le prove no, non sarò sul palco con loro purtroppo però io vado, vado questa musica è travolgente devo andare a ballare, devo andare a ballare ci vediamo da ora il centro è proprio il monitor giusto? Siamo compagnie deficienti noi siamo quanti gianni qui per voi quanta bellezza intorno a lei quanta novità e ci risvegno a mezza che il sole la compagni anche quest'oggi ma lei è raggiante come sempre siamo pronti, siamo pronti siamo pronti, siamo pronti siamo pronti, siamo pronti siamo pronti a servire con puntualità niente altro può desiderar siamo il meglio che il servizio potrà nell'efficienza ci manchiamo per la novità prego sua maestà Antezza, lei è fortunata quanta bellezza intorno a lei quanta novità novità è servizio si può solo sognare ecco mia Altezza un bravo portigiano si prova sempre nel posto giusto al momento giusto oggi mi andrebbe di indossare questo ma no, cosa dice? allora aspettiamo sì, questo è il colore perfetto per il suo delicato incarnato ma non è un po' troppo stretto con noi al suo fianco non deve preoccuparsi si lascia consigliare sappiamo bene che cosa si addice alla sua nobile ed elegante figura si lascia consigliare si lascia consigliare si lascia consigliare si lascia consigliare siamo pronti siamo pronti siamo pronti siamo pronti siamo pronti a servire con puntualità niente altro può desiderar Siamo il meglio che il servizio può dar Che l'efficienza ci manchiamo Per la movilità Prego sua maestà Ma padre, qui è tutto così esagerato, tutto così calcolato, tutto così finto Oh, è la nostra vita Abbiamo un'etichetta delle responsabilità Affinché tutti si sentano fieri di far parte di questo meraviglioso regno Ma si potrebbe provare a vivere diversamente Senza sentirsi costritti a nulla Tutti vorrebbero la stessa realtà Tu credi? Questo castro è una campiera di sogni Un parco a me è qualche più grande di più Tutti i due non ci sono bisogni Sì, però Forse l'efficienza non sa Che fortuna e ricchezza dai ha Se stiamo a vedere tu quello che pensi Può stare bene, forse neanche di più I tuoi desideri Forse vanno mai spenti Forse l'efficienza non sa Che fortuna e ricchezza dai ha Che fortuna e ricchezza dai ha Io qui sono vivo Non mi ricchezza dai ha Mi ricchezza non mi fico Ma dei tuoi esageri Per queste cerimonie Non è come credi Tutto cambia se vuoi So che cambiai Un giorno tutto questo Mi ringrazierai Per te sarà perciò E intanto ciò che ho fatto So che il giusto Lo sarà per me Io qui sono vivo Io qui sono vivo Mi ricchezza non mi fico Qui c'è bellezza C'è la vita E questa che noi chiamiamo libertà Ti vedo con te Non ti darà Serenità Felicità Beh la trama è lineare C'è un ranocchio Che è il principe frog Vittima dell'incantesimo Di una strega Che poi non è così tanto cattiva Anzi devo dire Molto molto accattivante Che si vendica però Con un sortileggio Di un rifiuto Che è assumito Proprio da parte del principe E poi c'è lei La bellissima principessa Beh che si dovrà innamorare Del ranocchio E sì perché solo il suo bacio Scioglierà l'incantesimo Beh la favola sicuramente È un classico Un classico con Un lieto fine Beh mentre fervono qua I preparativi Per il lieto fine Dovete aspettare ancora Qualche istante Perché ce lo facciamo Raccontare da loro Dai protagonisti Venite con me Andiamo dietro le quinte Venite Andiamo Voi lo vedete Che si sta preparando E ovviamente Avete capito Che lui è il principe ranocchio Quindi in questo momento È un ranocchio Poi qualcuno lo bacerà È una principessa bellissima E ritornerà principe Noi adesso ce lo ammiriamo In verde Ci fai un saluto Prima da Rana Tu com'è? Ah Ecco Adesso devo scaldarmi un attimo Deve scaldarsi Deve scaldarsi Ovviamente noi stiamo rubando Quindi abbiamo davvero pochi minuti Tu sei La cosa che voglio sottolineare Ne parlavo prima con la regista Che mi è piaciuto tanto Tu fai parte Degli autori musicali Giusto Di questo musico La cosa che mi ha fatto impazzire È che ogni personaggio Ha un suo stile Che si caratterizza con la musica Quindi abbiamo questa strega Molto hard rock Quindi molto così E poi c'è quello un po' più Pop Un po' più classico Quello classico Gerard è un po' più classico Gerard è un po' più classico Tutto molto particolare Poi c'è questo momento romantico Del duetto Classico pop Come vi è venuto È un lavoro davvero impegnativo Ci siamo ispirati davvero ai personaggi Forse è stato anche più facile Il fatto che non è esistendo Nessuna versione o cinematografica O in qualsiasi altra musicalmente Quindi Disney per dire Per dire la più famosa E non siamo stati assolutamente influenzati Da nessuna musica Nessuna idea esistente E quindi abbiamo detto Leggiamo la storia Vediamo come sono i personaggi In ognuno abbiamo trovato appunto Cioè la strega è chiaro Ci ispirava di più Rock, funk Che poi è buona la vostra strega Ma in realtà sì In realtà sono stato io il cattivo Perché l'ho rifiutata L'ho derisa Positiva alla fine Quindi lei in realtà è un po' Cioè si scopre essere buona Diciamo Mi ha fatto questo incantesimo però Aveva le sue buone ragioni Sei stato monedo Sì, sì, sì Quindi niente Passiamo da Un'atmosfera magari più classica Abbiamo fatto anche dei Allora le musiche sono state scritte Insieme a Stefano Lori Mio collega e Gianluca Savia Anche io ho partecipato musicalmente Anche le liriche ho fatto E quindi stavo dicendo Ci sono degli accenni a Rossini Per dire Quindi molto classico Oppure ci sono anche altri generi Anche pop Anche più giocosi Quindi ci siamo proprio divertiti A non seguire Nessun cliché Nessun Tanto è vero che Normalmente nei musical Tornano dei temi spesso Nel nostro non tanto Sembra sempre tutto nuovo Tutto un tema mai ascoltato Quindi può essere che il pubblico Non esca con qualche melodia particolare In testa Dipende Dipende Però basta comprare il cd E uno se lo ascolta con calma A casa Se le ricorda Anche così Momento marketing e pubblico Senti no vabbè Invece la storia è un classico Questo lieto fine Che tutti ci aspettiamo Questo principe Però è particolare Poi alla fine Tutta questa storia Poi questo allestimento bellissimo Questa idea innovativa Di creare ex novo Da una favola Che nessuno Insomma che in pochi conoscono Nessuno no Però in pochi sicuramente Sì in pochi anche perché appunto Non è stata sviluppata È proprio piccolina Ma in realtà appunto I fratelli Grimm Hanno fatto una raccolta Non hanno scritto Hanno solo raccolto fiabe Che si tramandavano oralmente Quindi ogni fiaba Ha veramente poche pagine Poi alcune Noi le conosciamo Ma sono sempre state sviluppate Da altri Quindi noi abbiamo fatto Un po' lo stesso percorso E quindi appunto Melina La regista Si è anche inventata Dei personaggi Che non ci sono E quindi è stato Un buono spunto Però in realtà È praticamente tutto originale Cioè si è seguito E poi un'altra cosa Sottolineiamo e poi ti lasciamo È questo fatto della diversità Perché tu Prima di far innamorare la tua bella Dovrai accettare te stesso Devo accettare me stesso E quindi capire che sono stato borioso Capire che devo essere No Con un carattere un po' più Però questo Trasmetterla agli adulti Grazie Io so che tu devi Devi concludere Grazie a voi E speriamo di ripetere O di migliorarci ancora Però questo è il nostro obiettivo Ecco questa è una cosa Che aggiungo io Mi piacerebbe tantissimo Che altre compagnie osassero Altri autori In Italia Perché ce ne sono tantissimi bravi Ma che osassero Un po' di più anche i teatri Bravo Perché Si importano Bellissimo importare i titoli famosi Riadattarli in italiano Però esistono Esiste già la regia Esiste già tutto Noi siamo bravi a creare Da zero Quindi Vanno premiate queste cose E quindi Qualche direttore di teatro Io Credeteci Perché Possono Possono riempire i teatri Anche gli italiani Anche gli autori italiani Bene Noi crediamo in voi Io però Non Di solito Io mi bacio gli attori Questa volta Non lo posso baciare Perché magari Se lo bacio Rischio Non è che poi ti trasformi Di nuovo in principe No no Sulla bocca Sennò non mi trasformi Allora lo bacio sulla guaccia State attenti Vediamo se accade Qualcosa proviamo No Non è accaduto nulla Lui è sempre Ranocchio Ci sarà la sua bella Che lo farà trasformare in principe Grazie Grazie In bocca al lupo A dopo Ciao 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 Ed io sono in compagnia Della regista Che ringrazio Per insomma Per aver accettato Di raccontarci Questo Questo musical Io intanto La domanda Te la devo fare Perché questa favola Dei fratelli Grimm Che non è famosissima È conosciuta Ma non è tra le più conosciute Sì Non è tra le più conosciute Questo è vero Ma forse nell'immaginario di tutti Il principe Ranocchio È un po' quello che desideriamo Di incontrare Il principe Quindi è la favola delle favole Se vogliamo Quindi È vero che non è conosciuta Anche perché il racconto Dei fratelli Grimm È un racconto Insomma Di poche pagine Nel musical Ci sono dei personaggi E le vicende sono diverse Insomma Però È anche vero Che tutti sanno Che baciare poi un ranocchio Insomma Potrebbe portare fortuna Bene No Infatti L'idea è davvero molto carina Poi visto La produzione è incredibile Cioè Avete lavorato tantissimo Sui costumi Che sono bellissimi Le scenografie E poi mi è piaciuta molto La caratterizzazione Dei tuoi personaggi Cioè Ognuno di loro Ha uno stile Che poi è musicale Di modo di recitare Ma hai fatto Un lavoro assurdo Davvero Particolare Grazie Noi siamo Insomma Convinti Che un prodotto originale Quale ad esempio Il principe ranocchio Sia un po' Da difendere Noi da portare avanti Noi abbiamo Costruito un musical Dall'inizio Insomma Un copione Originale Le musiche sono originali E E tutto questo Insomma Ci ha dato poi Ragione In questa Scommessa Abbiamo avuto Sì Diversi Un riscontro Super positivo E siamo molto Molto contenti Di questo Poi avete puntato Sui bambini Che sarà il pubblico Di domani Abbiamo Infatti Questo è importante Perché puntare sui bambini Non vuol dire Fare un prodotto Tra virgolette Da bambini Nel senso che Deve essere semplice Deve essere Estremamente semplice Anzi Proprio perché Il futuro Sono le nuove generazioni Bisogna insegnar loro Che cos'è il teatro Nella maniera più Classica Nella maniera più Anche intelligente Possibile Perché Siamo anche in un'epoca In cui si fa tutto Molto velocemente Molto semplicemente E si crede Che magari Un bambino Sia Insomma Non all'altezza Di capire certi concetti O certe cose Invece non è assolutamente vero Bisogna Quello che insegniamo Alla fine Che passiamo Loro sono solo Delle spugne Come tutti E quindi Il teatro Da sempre Ha un po' anche Questo ruolo Di spiegare Un po' Come vanno le cose Nella maniera Più Giusta possibile Bene Complimenti Progetti futuri Ci vuoi anticipare Abbiamo un altro Stiamo appunto Lavorando su una nuova produzione Christmas Carol Musical Sarà la nuova produzione Della compagnia Beat Anche questo Musical originale Proprio perché noi Come compagnia Vogliamo portare avanti Questo progetto Di costruire E di produrre Degli spettacoli originali Bene Ci siete Ci siete riusciti in pieno In bocca al lupo Davvero Crepi il lupo Vive il lupo Anzi Ecco vive il lupo Noi speriamo Noi siamo nel mondo Delle favole Quindi dobbiamo amare Anche il lupo Noi speriamo di ritrovarvi Insomma Grazie Vi auguriamo tanta tanta fortuna Grazie Grazie mille Grazie E noi intanto Dietro le quinte Cominciamo a scoprire I personaggi di questo Principe Ranocchio Siamo in compagnia del re Il re Io intanto La ringrazio Sire per questa sua Ci mancherebbe Subito lui Ho chiamato Sire Ritornato nel personaggio Dove ci porterà il suo regno? Come sarà? Il mio regno è un regno splendido Un regno ricco di gioia Serenità e ricchezza Ed è tutto meraviglioso Fino all'arrivo di un principe inaspettato Ma che io sarò lieto di accogliere In quanto principe E in quanto io re Non posso negare la mia ospitalità Perché sono un re buono Ecco quindi è un re buono Siamo sicuri di questo Assolutamente Assolutamente Ci dobbiamo fidare Assolutamente Non è che diventerà Bisogna fidarsi dei potenti Del resto Conviene sempre Quindi Come accoglierà Questo personaggio? Ma Nonostante un primo momento Di dubbi Sarò poi lieto Di accoglierlo Proprio perché Si è dimostrato Gentile nell'animo Anche se non nell'aspetto Ecco che Si mostra gentile nell'animo Vengono i confronti Della mia figlia La mia adorata figliuola Per cui io sarò lieto Di accoglierlo Nella mia corte Mentre mia figlia Sarà un po' recalcitrante E allora io dovrò Convincere mia figlia A essere un pochettino più Condiscendente Nei confronti Del nuovo ospite Bene Meraviglioso Invece Fuori da queste vesti No? Quindi perché so che Voi girate tanto Avete tanti Tanti musical Tante Produzioni Fuori da re Qual è il personaggio Al quale sei più legato? Ti devo subito fermare Posso darti il tuo Assolutamente sì Lo sto struccando Forse sono l'unico Di tutta la compagnia Che non fa altri musical Con loro Ho un altro Un altro Tipo di produzione Io lavoro su Spettacoli di narrazione Sulla Divina Commedia Per cui è tutto Un altro Un altro mondo Però sono entrato In contatto Quindi non ci fanno personaggi Questo è il mio primo musical No no Questo è il mio primo musical E ho fatto personaggi Ho fatto personaggi Shakespeareani Anche non Anche non uomini Ho interpretato Fino a Lady Macbeth Sempre con la barba Però Lady Macbeth Era un Era uno spettacolo Surreale Claunesco Per cui io da uomo Interpretavo Lady Macbeth Perché impazzivo Ecco no no Ma infatti la domanda Era proprio questa Non solo I ruoli regali Devo ammettere Che mi sono sempre Mi sono sempre vestiti bene Evidentemente Ecco bene bene Insomma avete capito Che qui Stiamo parlando Di grandi attori Ho detto che c'è davvero Un livello Molto molto alto In questa produzione È davvero per me Un grandissimo piacere Invitiamoli Invitiamoli Come farebbe Non so Ireo Uno dei tuoi personaggi Invitiamoli a vedere Il Principe Ranocchio Cari sudditi E con Immenso onore Che vi invito A vedere Il Principe Ranocchio Il musical Della compagnia Beat Di Torino Capito Dovete venire Grazie Sì È stato un grandissimo piacere Grazie È stato mio Grazie mille Grazie Buon lavoro Grazie mille 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 le famiglie che vogliono trascorrere una vacanza al mare in relax. Possibilità inoltre di affitto per feste private o ricorrenze particolari. Ambienti climatizzati, arredati con biancherie e subito pronti per cucinare. LUMAR 380 7521 058 LUMAR 380 7521 058 E ora che succede? Vado io? Voi continuate a servire la cena. LILIAN, non pentire. Apri. Chiunque sia, è evidente che è venuto per te. Ma padre, è solo un rospo che mi ha seguita fino a qui. È veramente... APRITI, MICO! E tu? Non preoccupatevi, altezza. Vi raggiungerò più tardi. I miei omaggi, Sire. Sono il principe Frog. Ah, è un principe. Ho aiutato a vostra figlia a recuperare un oggetto a lei molto caro. Gli ho chiesto in cambio di essere presentato a palazzo, ma lei non ha voluto ricambiare la mia cortesia. Oh, eh? Davvero, LILIAN, è andata così? No, 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 no. Sì, è vero. La principessa LILIAN ha perso la palla dorata di sua maestà la regina alla fonte e il principe Frog gliela ha riportata. Oh, chiedo scusa per lei, LILIAN. Una promessa, è una promessa. La ragazza è giovane e distratta. Tu non riesci a capire che il mio corpo si muove come vuole. Io cerco di fare diversamente, ma è inutile. Sono goffo, non posso farci nulla. Non è vero, si può fare molto. Bisogna avere pazienza. Date il tempo alla principessa di accorgersi che sotto questa orrenda pelle di rospo si nasconde un nobile principe. E come? Ve lo dimostrerò. Intanto andate. Vabbè oggi. Principessa, potrei avere l'onore di fare un ballo con voi. E va bene. L'invito di un principe non si può rifiutare. Vada bene, però. È solo perché mi è stato chiesto di essere carina con te. Beh, ti stupirò, LILIAN. Sono un bravissimo ballerino. Sì. Proviamo. Sei davvero buffo. È il vantaggio della vita all'aperto. Si imparano un sacco di cose. Potrei avere una cannuccia. Come? Una cannuccia. Ah, sì, certo. E portate una cannuccia, per favore. Ecco qui. Ecco. A tutto c'è rimedio. Te l'ho detto che ti avrei stupito. Davvero, principe. Avete un lato nascosto che non mi aspettava. Prego. Il rosco è riuscito a prendere le attenzioni di Lillian. Cosa avrà da dirle di così interessante? Ma lasciate che i due piccioncini si divertano. forse tu non hai capito che non c'è niente che possa salvarne te Né belle principe se che provi ad avvicinare per baciarti. Ora sei un mostro indutile. la tua regalità o l'amore. che sia un mostro indutile. R falso è un mostro indutile. Non è un mostro indutile. Inoltre. Altezza! Altezza! Siamo tornati quelli di prima! Jeanette! Ma tu, tu sei un uomo! Sì! E io, questo sono io! Linian, ecco il tuo principe! Grazie! 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 Grazie!